Stop ai tir fino a fine giugno. Il GIP del Tribunale di Arezzo ha concesso la proroga di un mese per la presentazione della superperizia tecnica sul Puleto, il viadotto ubicato in E45 tra Varsa Vignone di Pieve Santo Stefano e Canili di Verghereto, accogliendo la richiesta presentata dal perito che non è riuscito a raccogliere dati sufficienti per capire se il viadotto sia o meno a rischio cedimento. Come si legge sul resto del carlino, il viadotto è stato sequestrato il 16 gennaio dalla procura arentina per criticità strutturale, portando in un primo tempo alla chiusura totale delle 45 nel tratto interessato e poi riaperto dal 13 febbraio ai mezzi leggeri. Il 26 maggio scadeva infatti il tempo concesso per la perizia incaricata dal GIP di Arezzo, ma visto la mancanza dei dati necessari e la complessità delle verifiche da effettuare, il giudice ha deciso per la proroga. Non sarebbe inoltre ancora chiaro se vi siano delle responsabilità riguardo all'ommessa manutenzione da parte di ANAS, accusa che vede indagati 5 funzionari dell'azienda. Per l'ANAS la struttura del puleto è invece stabile e poteva pertanto rimanere aperta al traffico. Al momento restano fermi i lavori di manutenzione previsti sul viadotto da ANAS, che non possono partire in quanto potrebbero inquinare i dati del perito.